Si chiama Harriet Haynes, pensate che è una campionessa transgender e pensate che è la triste protagonista di questo video di oggi. Pensate infatti che questa giocatrice di biliardo si è ritrovata senza delle avversarie, senza dei nemici, senza colui o coloro che potevano andare a giocare con lei. Infatti pensate che queste giocatrici di biliardo hanno deciso di non guarigioare con lei perché è trans, eppure l'atleta in questione transessuale è riuscita a vincere il titolo e a farla franca. Sono bigotte, avrebbe detto proprio la diretta interessata. Le donne hanno detto che non vogliono essere costrette a competere con degli atleti che sono nati in corpo maschile e che hanno degli evidenti vantaggi. Infatti a loro dire non c'è una discriminazione per il fatto che sia trans, ma per il fatto che questa persona abbia un fisico diverso da loro e di conseguenza risulta costei più avvantaggiato rispetto al loro. Perché loro hanno un seno grande, hanno le fianchi, hanno un lato B, insomma sono donne vere e proprie, non sono trans. Invece lei, vista il costretto che è trans, ha un corpo meno grosso, meno formoso, meno giononico, meno procace e non ha il seno. Di conseguenza può riuscire a vincere con più facilità rispetto a loro. Grazie a tutti, il video è Carmina, una buona giornata a voi e una buona domenica a tutti quanti.